Quindi, questo lo dico perché contemporaneamente questi tre livelli accadono in un colpo solo, dobbiamo lavorare sugli orari esistenti perché bisogna che riusciamo a produrre dei miglioramenti che voi ci chiedete o insieme riteniamo fondamentali e prioritarie e a portata di mano con aggiustamenti di tipo organizzativo. Secondo, porre la questione strutturale di una linea che può beneficiare anche di qualche rilascio di tipo infrastrutturale e che può essere meglio organizzata, io dico preferibilmente di intesa con le altre regioni, se l'intesa non c'è andiamo senza l'intesa ma cercando di trovare le forzature utili a raggiungere l'obiettivo di tipo strutturale. Terzo, mentre facciamo questo mettiamo mano alla gara che nelle nostre intenzioni dovrebbe uscire come bando e scolano, come prima fase di bando perché la gara è molto lunga da gestire.